la mano di dodi il silenzio del movimento 3 dicembre 2011 l'hardware o il software per trasformarti esiste un mondo diverso è già qui legalmente cioè sulla carta potremmo anche realizzarlo e sarebbe necessario nella più grande porzione possibile penso a quanti abitudini sarebbero più comode e altre ovviate ma il privato molte volte sembra solo teoria cioè non si dovrebbe restare senza un movimento mai ma qui pare che nessuno può procedere la legalità avrai capito anche tu che oggi il capo si sarà fermata una mezza parola della persona più importante presente nel quadro generale istituito e poi come si può dichiarare una macchina illegittima non esistono apparecchiature illegali siccome funzionano bene ok paradossalmente serve vedere chi non sa parlare chi cresce nel tempo chi assume informazioni o denari sai la realtà è una sottigliezza per gli stolti che pagano all'oscuro la macchina oggi diventa il presente fosse solo quella che toglie la fame nel mondo ma no non l'hanno rubata mentre noi dovremmo essere in paradiso invece di vivere nella nostra città oggi forse hai visto passare l'idea il futuro che doveva arrivare sta passando adesso e arriverà anche un prossimo domani per chi ne avrà necessità non si esiste più restando non aggiornati ti vuoi colorare la faccia io sono a posto così attendo non sembra un gioco saranno un po tutti in silenzio sarà una specie di allenamento per la maggiore forma espressiva statale in più per evitare le percossi a volte quindi anche da segnalare un'anomala situazione legale del movimento pubblicante nella nazione saremo diventati degli umani diversi o sarà finita la guerra in cui si scontrano per strada come degli animali gli uomini a volte alla fine oggi uccide oggi ho un dovere pubblico e dare come in questo inizio secolo non possiamo restare in un posto perché finiamo la batteria sembra poterci restare invece dobbiamo proprio muoverci ecco in alcuni casi siamo debitori farlo il dovere serve per non morire cos'era un'idea se vuoi la parola o il gesto tuo dei tuoi prossimi o di chi incontrerai oggi e mai un insieme errori che il computer non ti segnalerà manca di idee questo posto ecco cosa si cercava addirittura non l'hardware nella maggior parte dei casi ma il software che sarà carente altrimenti eri già in paradiso oggi certo la nostra privacy ma dimmi chi ti ha spezzato quel braccio il tuo boyfriend ora io che devo far piangere facciamo una pausa qui sembra che tutto brucia saremo un po non completi nonostante nati vivi naturali si trova mancante solo l'anima o meglio la cpu il buio manca una legge come una luce perfetta nonostante premi lauree diplomi serate di buon cattivo tempo se questo è il moderno non sarà la strada giusta quindi lauree scienziati premi nobel capi di stato nazioni o in tv nota che il bene non c'è fine della trasmissione mentre siamo un bene così come sarà piccola una vita soltanto si diceva sempre un'informazione pubblica o privata che porta solo dove la macchina ci vuole non è vero che si parla ancora di predomini di male o di uno specchio cioè la verità più limpida invece ha due facce una che ci rappresenta e l'altra bianca poi cos'è la verità un prodotto che non dice il suo prezzo la sua finalità o anche la sua scadezza ecco come quelle idee di esistenza di presenza valutativa finiscono ancora nella loro descrizione tutti i modi di funzionare nella legge non fuori si parla invece di dimenticarsi di dimenticarsi nel bene perché non arrivati carnalmente al pulsante che attiva il giorno successivo una falsità quel presente già si paga un governo per il bene con tutti i progressi terrestri non completo oggi il seguito lo sai l'impaginazione delle idee diventa un libro a sé per questo si svegliano vuoti gli abitanti della nostra città anche oggi sentirono ascoltare la radio mentre leggi le spiegazioni di questo universo non sono mai venute tutte alla luce o non è vero che tutto finito oggi ci uccide un altro giorno nuovo l'avevamo pagato sai anche se non completi allora non si era sbagliato solo il numero di conto corrente a guardare con un po d'attenzione ai dettagli completa la tua carne era una vecchia pratica da molto tempo non si dice cosa è successo qui non funziona per niente senza spostare oggetto e azione nel senso materiale o filosofico dell'atto siamo noi l'oggetto e le altre realtà comprese nell'azione far nient'altro la carne non muore sarà una capacità materiale simile a un elettrodomestico che hai comprato in un negozio ora in casa a differenza delle persone che vanno volano via dalla nostra abitazione avranno degli impegni non discutibili del come si vince la povertà mentre sono molte in più le unità beta che circolano dopo dieci minuti dall'impatto chi vince e chi sei tu o semplicemente un cervello non sarà un'unità che tieni in casa qui ma un prodotto nazionale lordo uguale per le regioni della nostra nazione di sicuro ne hai sentito parlare saranno tutti uguali i mali o di un carcere grande quanto la vita che cade dove la lama non posa e poi giù tutti gli italiani mali non sono unità superanti scherzo alla fine non è proprio l'inizio non si può cominciare dal piede alla testa dal fondo al prossimo poi non sapere cosa fare con le mani cementate gli umani non sono tutti uguali saremo già a buon punto anche se sarà presto o anche se mi sembra che non esisto più senza il mio pranzo preferito sai poi non c'era nessuno quando siamo arrivati non è solito l'affare il massimo il bene tutti e due assieme dimmi perché si fermano persone o senza uscita li incontrano un male magari lo sposano gli aerei volano in cielo non sopra le case è una realtà davvero cruda da mangiare il futuro d'oggi che si crea in crescenza ma non mi sembra di averlo già sentito o sai cos'è una camera a gas moderna targata 2011 il prodotto di oggi è alto prego non ti ammonire ma non esiste un bene uguale a un altro sai non si tradisce mai in fondo una materia che ha degli strati a volte però non c'è il nostro o il perché lì non si può dire anche se lo vedi vicino a te come mai l'avevamo capito una realtà così forse si chiama un male in futuro e non c'era scritto in grassetto così non aveva l'aria per parlare e poi un falso non si potrà forse vorrebbero ucciderci da esseri obsoleti nel futuro ma la storia segna il nostro sorriso per sempre mai troppo prego ora continua un altro sarà già compiuto un tuo interesse mentre lo muovi l'interessamento sentirai che paga patirai che era vero sentirai il futuro e futuro dopo dovrà pur passare non ci saranno vie d'uscita tra due ore e non tra dieci anni a sperare ancora dopo altre due ore un gioco si vince un gioco si gioca ma la vita sarà un gioco dove sei andato a finire se non in una delle copie di vita odierne perché proprio oggi finiva nella nebbia hai preso velocità ora ti devi fermare sai oggi fuori per già meglio è già tanto il passato di dieci anni non si cancella allora sentirai cattive parole o ti hanno detto molto peggio cioè il falso e sarà meglio stare nella propria corsia poi come si potrà creare una corsia tra Italia e America resta quel che sei resto di mattoni attaccati ecco vedi come sarebbe meglio fuori dalle opere pubbliche nuove solide ma rubate prego se nel loro interesse già copio ti copio nel male di questo fine anno 011 strano solo a dirlo inzaccati nuovi di quest'anno ma se il loro male procede per oltraggiare anche la coscienza del professore classico sarebbe meglio credere cosa ne vuoi sapere tu senza parole non siamo vivi a casa o fuori era facile un fondo e basta così il futuro ma lo devi solo comprare un periodo storico si vive oltre o bene si resiste oltre o dentro lo stato e per esagerare anche la vita le scuole le nostre istituzioni che funzionano a metà come un amore per una vita si vince oltre o di bene non toccare le loro realtà però non devi far nulla sulle concretezze che superi cioè le lasci nel loro quartiere e procedi fuori verso un altro posto qui nessuno vuol far niente essere non è divenire ok prendere velocità non sarà un problema ma sicuramente non si può vivere senza l'altro piede come senza tutte e quattro gli arti se presenti resistenza sono già il vuoto il pieno la presenza non è l'assenza per quel che siamo il rispetto degli orari di lavoro con questi dissipatori sociali che non rispettano nemmeno un civico il basso o l'alto sono già risolti non da risolvere il facile vivere sembra diventato impossibile saranno degli incompetenti al governo ma non si può fuggire cosa non funzioniamo e noi o il nostro non è vero guarda meglio che sarà finita bevi qualcosa tanti saluti g grazie per aver ascoltato questa lettura se ti è piaciuta lascia un like e iscriviti al canale attiva anche la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi contenuti a presto grazie